ciao ragazzi di nuovo insieme allora oggi nell'argomento dell'approfondimento del modern electric bass siamo arrivati alla scala esatonale la scala a toni interi quindi siamo intorno al minuto 20 o qualcosa o giù di lì del video e Giacomo fa questo faccio un po più lentamente di lui più o meno una cosa del genere allora cosa sta succedendo Giacomo mostra ancora una volta degli esercizi tecnici la coordinazione per coordinazione tra mano destra e mano sinistra e lo fa questa volta utilizzando una scala un po particolare che è la scala esatonale il pattern che usa quindi la classica formula che si ripete che utilizza è simile all'esercizio che abbiamo visto in precedenza ad esempio sulla scala maggiore quindi di quattro note diciamo gruppi di quattro note però sulla scala esatonale quindi un piccolo accenno su cos'è la scala esatonale ne ho già parlato comunque nel mio corso di armonia quindi ho approfondito un po un po meglio l'argomento in quell'occasione comunque si tratta di una scala appunto toni interi poiché tutte le note che la compongono distano un tono l'una dall'altra quindi la prima cosa che si nota è appunto esatonale composta da sei note invece che le classiche sette delle scale più comuni e ci sono molteplici aspetti molteplici considerazioni che andrebbero fatte su questa scala sul suo utilizzo nella composizione e nell'improvvisazione Giacomo qui la utilizza appunto prettamente per un discorso tecnico quindi è un'ottima scala da fare sul basso perché essendo appunto formata da intervalli molto ampi quindi tutte note distanti un tono sul basso ci costringe comunque a un notevole sforzo di diteggiatura quindi di mano sinistra e quindi un'ottima scala anche per lo studio diciamo ripeto prettamente tecnico quindi ci sono due scale esatonali chiamate ognuno poi le chiama a modo suo comunque le chiamo la scala esatonale di sì e la scala esatonale di do perché se ci fate caso la scala esatonale di do è identica a quella di sì quindi non ha senso chiamare non ha senso identificare come una nuova scala scala di do quando è esattamente identica a quella di sì perché appunto tutti gli intervalli rimangono uguali quindi ce ne sono due la scala di do esatonale esempio do re mi fa diesis sol diesis la diesis e do è identica a quella di re esatonale di mi esatonale fa diesis esatonale sol diesis esatonale la diesis esatonale detto questo poi si potrebbe andare un po più nello specifico e quindi appunto le composizioni detta anche scala debussy debussy perché sicuramente non era stato il primo è stato forse l'autore classico diciamo che ne ha fatto un utilizzo più enorme basta comunque ascoltare ad esempio film della disney perché è una scala molto particolare e gli accordi che si formano hanno un suono molto particolare che si prestano a determinate situazioni a determinati momenti musicali nel senso di dove c'è bisogno di un'atmosfera un po mistica surreale già la prima cosa che mi viene in mente da questo effetto e poi c'è questa appunto caratteristica che non c'è una tonica ben definita quindi si può andare a dritto all'infinito non si trova mai quella nota che ci fa sentire diciamo arrivati quindi alla tonica lasciando perdere tutti questi discorsi vi dico solo dove io personalmente la utilizzo poco non è tra le mie scale preferite in quanto non sono mai riuscito a far la mia nel senso trovare degli spunti musicali decenti con questa scala però per esempio viene utilizzata spesso soprattutto nel jazz, nell'improvvisazione jazz sugli accordi di dominante di settima quindi facciamo fa settima ad esempio se ci suonate la scala esatonale quindi di fa che è uguale ripeto quella di sol di la di si si andrà out perché si suonerà la tonica a seconda maggiore a terza maggiore e qui ok poi abbiamo già la quarta aumentata la quinta aumentata e la settima minore ok quindi avrà una sonorità molto particolare oppure sugli accordi alterati quindi di settima però con varie alterazioni eccetera eccetera tornando a giaco si può prendere come sempre molti spunti da questo esercizio uno di questi è la prima cosa che mi è venuta a me è continuare l'esercizio diciamo all'infinito ovvero faccio lentamente lui parte da si quindi fa si la sol fa si la sol fa la sol fa mi bemolle sol fa mi bemolle re bemolle fa mi bemolle re bemolle si eccetera quindi possiamo ad esempio fare come ha fatto lui faccio lentamente quindi faccio i gruppi di 4 note sulla scala esatonale quindi faccio i gruppi di 4 note sulla scala esatonale appunto di si, di do diesis o re bemolle in questi casi è paradossale distinguere re bemolle e do diesis eccetera quindi possiamo ad esempio fare come ha fatto lui quindi faccio lentamente quindi faccio lentamente e comunque questo è davvero tutto però non è importante quindi faccio i stag��i andiamo a fare un'occhiope i 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 fatto posso andare ancora avanti praticamente ogni volta che risalivo poi partivo dal tono sotto quindi sono partito prima dal B ho fatto tutte tutte parti arrivo alla seconda nota della scala riparto e poi scendo da il tono sotto quindi in questo caso la faccio la stessa cosa poi risalgo e poi parto da G poi da F finché poi la difficoltà aumenta ancora di più perché come sapete più vado nel range basso più i tasti sono larghi quindi l'estensione della mano che servirà un'estensione ancora più elevata quindi questo è uno spunto oppure scendere da sì risalire a quella di C può riscendere magari dal A e risalire dal Zbm oppure cambiare tipo di pattern invece di il gruppo di quattro gruppo di cinque pure a terzina ad esempio insomma come sempre anche successioni diverse cambiando diteggiature e può sperimentare magari mettendo una semplice base appunto qualcosa di musicale ma faccio proprio una cosa a volo F7 provare ad esempio prima la scala di F misoliga sarebbe la sua per eccellenza grazie a tutti grazie a tutti poi po' poi trovarci questa scala esatonale quindi di F di Sol di La uguale Musica Musica Pure alternarle e andare un po' fuori un po' in Musica Musica Ovviamente come avevo premenso non è la mia scala preferita quindi adoro le composizioni di The Busey ma di certo non sono io capace di utilizzarla per comporre né tantomeno per improvvisare però ad esempio potrebbe essere il vostro caso invece quindi anche questa volta abbiamo preso spunto da un semplice esercizio per poi provare a fare qualcosa sia di musicale che a creare qualche altro esercizio di nostra inventiva diciamo che è sempre quello che voglio cercare di trasmettere con questo approfondimento su Jack o su Modern Electric Base quindi ragazzi ci vediamo poi alla prossima puntata che se non sbaglio riguarda ancora i partets e vi saluto e vi faccio ancora tanti auguri di buon anno Grazie 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 a tutti